Ciao a tutti, sono Giorgia, dottorana nel primo anno del corso di Scienze Chimiche. Ho frequentato la magistrale presso l'Insubria e sono molto contenta di aver scelto questa università perché ti fornisce un corso formativo molto ampio e completo. Per questo consiglio a tutti di venire a iscriversi all'Insubria, in particolare al corso di Chimica.